Senta, piuttosto ha voglia di accompagnarmi. Ho ricevuto un invito che forse può interessarle. Serve a guardare avanti? Direi proprio di sì. Allora accetto. Grazie. Mi ha sofferto tanto per averla, mostriamola. Buongiorno ragazzi, abbiamo il piacere di avere con noi oggi Lucia Annibali. La sua storia la conoscete davvero tutti, quindi passo immediatamente la parola. Ho tolto la maschera per parlarvi. E sono sicura che non vi darà fastidio. Io sono questa qua. E non ho nulla di cui vergognarmi. La bellezza che mi interessa oggi è quella profonda che ognuno ha dentro di sé. Io la mia l'ho trovata nella forza di accettare e amare. La persona che sono diventata. Alle ragazze voglio dire che non è amore sentirsi annientate psicologicamente. Rinunciare alla propria indipendenza. Ad essere se stesse. Solo perché lo vuole lui. Vogliatevi bene. Credete in voi stesse. E sappiate che ogni forma di violenza subita non è colpa vostra perché avete scelto l'uomo sbagliato. Ma è colpa di chi l'ha commessa con la violenza. L'amore non può tollerare nessuna forma di violenza. Mai. Grazie. 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 Grazie.